Breve ma concreta seduta di Consiglio Comunale ieri sera a Maschri, dove il civico consesso ha approvato l'istituzione della Commissione Speciale d'Indagine in relazione alla deliberazione sugli elementi di criticità riscontrati appunto dalla Corte dei Conti sui consuntivi di impilancio 2013-2014. Entro 30 giorni la Commissione Speciale d'Indagine dovrà analizzare i rilievi della Corte dei Conti, accedere a tutti gli atti riguardanti la questione e rilevare se ci sono eventuali responsabilità e valutare come rispondere alla Corte dei Conti. Faranno parte della Commissione Speciale d'Indagine il consigliere del gruppo misto Ernesto Pariti e i capigruppo di ogni gruppo consigliare, che potranno a sua volta delegare un vice o un altro componente del gruppo.